Continua a provare le frequenze e non fermarti finché non ci riesci, ok? Briggs, notizie della nave dirottata? Le comunicazioni con l'esterno sono oscurate. Non possiamo comunicare, ma ci stiamo lavorando. Charlie. Il virus. So da dove viene. È stato eseguito quando abbiamo analizzato il tablet preso da Sam. È impossibile, il sistema... Ho bypassato alcuni protocolli di sicurezza. Volevo ottimizzare la velocità operativa. Gli hai fatto infettare il sistema. Così ci hanno trovato in Messico. No, non così. Mentre eravamo a terra, ho contattato un ex socio del cartello. Gli ingegneri hanno messo una taglia su di noi. Deve avermi venduto in cambio di una fetta. Charlie, perché... Ci siamo. L'attacco benzina americana è riuscito. Ecco perché hanno attivato la continuità di governo. E qual era il bersaglio? Scusa, Sam. Siamo sommersi dai dati. Ecco. Si direbbe Louisiana. Sabine Pass. Una raffineria. Oh, mio Dio. Sabine Pass. È la più grande raffineria della costa del Golfo. Hanno colpito l'impianto con un virus prima dell'impatto con la nave. In questo modo tutti i sistemi di sicurezza erano disattivati. Il virus opera esattamente come quello che ha infettato l'aereo. Oh, merda. Sono riusciti a infettare tutti gli impianti della costa. Se riesce a diffondersi. Salteranno uno dopo l'altro. Ci avviciniamo al salto, Sam. Pronto? Il pilota scende di quota. Velocità ridotta. E tre... Due... Uno... Via, via, via! Grim, Sam è andato. Ricevuto. Iniziamo. Grim, sono a terra. Vado verso l'elicottero abbattuto. Sam, sembra che i fili siano sotto attacco. Ingegneri? Affermativo, sono bloccati. Non so per quanto resisteranno. Salve ragazzi e benvenuti a questo nuissimo video di Splinter Cell Blacklist. Da vostro raffreddato zombie. Alleato! Blade! Chaos! Come conosci la risposta? Se non hai intenzione di spararmi, non puntarne la posta. Voglio aiutarmi. Non ci serve il tuo aiuto. Da dove arrivi? Io non esisto. Vi hanno detto di prendere l'impianto? Ci hanno mandati per fermare la petroliera, ma era tardi. Siamo arrivati dopo lo schianto e abbiamo inseguito una squadra. Avevamo quasi il leader. Poi è andato tutto a puttane. Grim, abbiamo un ingegnere VIP in questo. Dammi una posizione. Ok, abbiamo un ingegnere VIP. Ok. Continua a diriggerti verso l'edificio principale, Sam. Bravi scemini, mi avete messo questo. Fumogeno. Leccemo una sparatoria nel terminal, Sam. Ti consiglio di andare lì. Merda. Fumogeno. Vediamo quello dove va. Merda. Merda. È stato colpito da un proiettile vagante. Comunque, come avete potuto notare, sto usando un'attrezzatura diversa dal solido. Ebbene sì, come grazie alle varie partite che sono riuscito a fare online, sono riuscito in qualche modo a... Aspettate che spingo la luce. Sono riuscito in qualche modo a creare più profili. Secondo il tipo di miscele, questa è una miscele quasi per niente stealth. Quindi, va molto bene con questo. Abbastanza bilanciato, perché... Da un lato nemmeno mi sentono. Infatti prima avete... Come ho potuto notare, ho tirato fuori uno shotgun. Settiamo una sparatoria nel terminal, Sam. Ti consiglio di andare lì. Non abbiamo tempo, devi proseguire. Sam, attaccano la squadra di intervento. Mi muovo. Grim, trovami il capo degli ingegneri. Più in fretta che posso. Da arriere lassù, quindi... In modo più rapido sarebbe... Questo. Ok, vediamo se c'è qualcosa che può tornarci utile. Qui no. Anche no. Perfetto. Vedo un portatile a portata di mano. Vedo molti nemici davanti a te. Sam, quella sezione dell'impianto è un labirinto. Sfruttala a tuo vantaggio. Come sempre. Merda. Merda, stanno con quei cosi robotici del cazzo. Merda, stanno con quei cosi robotici del cazzo. Vediamo nel film del robottino. È pericoloso quando non lo tieni a portata di mano. Ok, rimaniamo qua. Aspettiamo un attimo che... No, no, no. Che cosa è? Senti qualcosa? Non so, sento cose Non so, sento cose Oh cazzo Fottuto tizio con le orecchie bioniche mi avrà sentito pure molto bene Sì, però troppa luce Veramente troppa luce, alcune non credo di poterle riempire Sam, quella sezione dell'impianto è un labirinto, sfrutta la tua vantaggio Come sempre Il problema è quel tizio laggiù Questo credo che mi conviene fare questo giro di Peppe e anche essere abbastanza rapido Altrimenti Shit E' lì il cazzo che ti sincula Tu non hai visto niente E' lì Sua sorella è lì No 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 qualcuno ha visto qualcosa come stanno esio? attendono i medici non ti fermare ok cerchiamo il pc ovvio non ci sto più brutti babbuini ok da qui è molto più pericoloso in tutti gli ingegneri prima che la squadra possa lavorare in sicurezza da qui ci becchiamo altri cento punti esplorazione dai posso tirare fuori lo shotgun non lo so porco il cazzo 12 proiettili che l'ho buttata di tutti i conti 12 proiettili ce ne fossero che per fora almeno cosa pensi di fare non possiamo entrare nei condotti e per forza saltare fuori aiuto no 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 ok 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 Grazie a tutti. Troppa luce naturale. Troppa luce naturale. Troppa luce naturale. l'area intorno alla stazione libera sto ancora cercando il loro capo per trovare nuova cosa di punizioni perchè ho finito precedenti ok andiamo dai pompieri capitano tutto a posto i suoi possono tornare al lavoro grazie per l'aiuto dovremmo riuscire a evacuare tutti dobbiamo riuscire a fermare l'incendio il condotto principale deposita direttamente sulle fiamme si diffonderà nel tubo e poi boom tanto vale pisciare contro vento come se la cava? ricevuto Sam dobbiamo tirarti fuori no aspetta se trovi un terminale posso far saltare il virus ripulire il sistema capitano dov'è la sala comandi? ultimo piano del terminal ma è troppo pericoloso me la caverò non sono solo buona fortuna capitano se a qualcuno serve fortuna quello è lei se riesci ad arrivare al terminal Sam Charlie può interroppere il flusso di gas dimmi che la tuta è ignifuga e faccio un testo ecco buona fortuna porca mignotta c'è un cosa lassù? credo quello per forza quello ci dovremmo fare un giro di peppe ok tanto vale farlo qua perfetto dai 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 entra prendi e ce ne andiamo abbiamo fatto tutto abbiamo catturato il vip il laptop e anche il ricordo che è la flash drive che abbiamo preso tanto vuole pisciare contro vento mi sembra giusto porca merda Sam sono riuscito a entrare nel canale di comunicazione degli ingegneri vuoi sentire fammi sentire sono arrivato al termine ottimo la sala comandi all'ultimo piano voglio rapporto sulla strada rialzata la rialzata la rialzata la rialzata la rialzata la rialzata la rialzata abbiamo perso la stazione degli bambieri i bambieri sono arrivati no non si sono arrivati i sil vedi la posizione non devono avanzare non fate passare nessuno risultano sono nella sala comandi collega all'opsat al terminale principale così accedo in remoto dagli MS ok un attimo sta schiacciando tipo alte F4 alte F4 ce l'hai fatta Charlie ho controllo su tutto luci, porte, feed video forse ho trovato il leader si è travestito da paramedico ti invio la posizione mi muovo andiamo a prendere quel gran figlio di mignotta apro una porta è il modo più rapido per trovarlo occhi aperti lassù gli ingegneri sanno che siamo tu ti copriamo credo dovrei tenerlo premuto non ricordo i tasti la combinazione dei tasti esatta però non scende cosa cazzo stai facendo gran figlio di puttana se pensi che è solamente quella si si buona fortuna la testa di minchia eh 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 aspetta che almeno avevo le granate vero si eh ho le granate vi faccio secchi finisco la missione anche oggi questa la finisco in un video solo come è successo con Guantanamo Guantanamela granata granata occhi aperti lassù gli ingegneri sanno che siamo qui ti copriamo ti copriamo ehi i comandi i comandi del gas sono tornati cosa succede vattene al posto no non possiamo resistere a lungo non possiamo resistere a lungo il nemico laggiù gli prendi per il culo spero il piazzo qui appena arriva gli sparo tipo tutto ma vaffanculo già gli avevo levato il casco gli avrà levato l'esplosione ok dovrebbe mancare relativamente poco iniziamo tipo ad accelerare il passo ti senti al piano terra se puoi Sam sei proprio sopra il leader merda i sistemi si sono riattivati devono aver ripreso l'impianto sigillate tutta l'aria attenti Est aggiornatemi costantemente via dovresti vedere il leader ora Sam lo vedo mi muoto sta cercando di scappare vado tra gran figlio di buttana sei mio zoccoletta sto culo lo spano io Sam posso chiudere il cacciaio per la mia cacciaio di segnere lo fallo scusa Sam lo posso riaprire ma ci vuole un po' proverò un altro modo che tigre di sono agile io testa di minchia ma mi prendi per il culo ma mi mira in alto mi mira in basso mi prendi per il culo ho un altro caricatore oltre a questo scappano su un'ambulanza rintracciali con il drone un attimo ci penso io che è finito un attimo aspetta apre il cancello aiutami prima tu il piano di Sadik parla è troppo tardi cosa avete fatto? il vostro presidente gli ha consegnato i vostri su un piatto d'argento Denver il bunker Sadik era lì ad aspettarli è finita no la cattiveria prima di tutto mi sembrava giusto di fargli capire che non ci era piaciuta molto questa risposta come avete potuto vedere poco fantasma molto pantera probabilmente visto potremmo essere più pantera ok ragazzi credo ci dovrebbe essere un ultimo video finale quindi vi lascio ai video finali se ci sono altrimenti noi ci rivediamo ad un prossimo video e dal vostro caro al bezummi è tutto ciao ciao ragazzi i conti sono aggiornati abbiamo raggiunto la Coldwell ci stiamo provando la squadra SIL sta bene saremo in volo tra 20 minuti appena finiti i rifornimenti ehi grazie per l'aiuto laggiù di niente hai un minuto è urgente niente di importante parliamo dopo Grim il virus il Messico devo dirglielo no non devi ma ho sbagliato tu dici perché mi copri allora perché dovresti volermi ancora qui infatti non ti volevo grazie tu me l'hai chiesto non ascolti nessuno credi di sapere tutto lavori come se tutto fosse un gioco hai finito ho appena cominciato sai che cosa mi dà più fastidio di te che sei bravo nel tuo lavoro l'unica cosa che può difendere il mondo da Sadie che questa squadra non posso permettere che Sam ti butti fuori mi dispiace e allora cerca di farti perdonare grazie 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 a tutti.